Ognuno mette il suo? Braccino corto? Vabbè, io la mia parte l'ho già messa. Messo cosa? Le 500 lire nel carrello. Vabbè, ma poi te le riprendi. Tanto ho lì un capitale immobilizzato e gli interessi si impennano. Interessi cosa? E sa perdere cosa ne sai tu di economia, Giacomo, dai.